Per i nuovi indagati, al di là degli elementi, trovate delle oggettività ovviamente per quelli che sono anche movimenti bancari e celle dei cellulari? Assolutamente sì, le celle dei cellulari, i loro movimenti, i loro contatti, i loro spostamenti sono tutti documentati come vi ha detto il direttore del servizio centrale operativo utilizzando delle tecniche che solitamente utilizziamo per contrastare i reati connessi alla criminalità organizzata. In più, oltre a questo, i movimenti bancari a cui si riferiva lei sono stati ben riscontrati nel corso di un'attività rogatoriale effettuata con le autorità elvediche e ci ha consentito appunto all'autorità giudiziaria di contestare i corsi di riciclaggio.